Se c'è una donna africana che scappa dall'Ucraina, la devono accogliere, secondo lei, o no? Bisogna vedere se scappano dall'Ucraina. No, se scappano dall'Ucraina, certo. Se scappano dall'Ucraina, esce dal conflitto. Ma non è facile. Non è facile, prego. Non è facile stabilirlo. E questo deve seguire un processo. Ma se esce dal conflitto in Ucraina, no. Perché altrimenti diventa un viatico per tutti quelli che scappano dall'Africa.